Dottor Duccio Venezia è uscito dall'ospedale, è entrato in città in un luogo bellissimo come la Fraternità dei Laici per portare la sanità in città. Urgenze toraciche sotto la giostra, un convegno molto partecipato. Di cosa si tratta? È un argomento molto molto importante per la città di Arezzo perché si inizia a fare, si rinizia a fare un percorso di formazione per tutti gli specialisti. È un congresso dove sono intervenuti pisani, fiorentini, senesi e anche al di fuori della regione. Ovviamente si parla di radiologia, quindi urgenze toraciche? Urgenze toraciche perché ultimamente stiamo notando che ovviamente la mortalità di questi traumi, soprattutto toracici, è molto molto più elevata rispetto già anche all'addome. Quindi abbiamo scelto proprio per una maggior importanza, abbiamo scelto questo argomento per l'importanza che riveste ovviamente il trauma toracico. E quindi a voi radiologi il compito anche di individuare eventualmente delle lesioni più o meno grave? Esatto, faccio un esempio che purtroppo negli ultimi periodi abbiamo avuto in ospedale degli accoltellati a livello del torace o addirittura le incidenti stradali che purtroppo stanno aumentando. Giustamente anche dopo il covid la gente si sta rimuovendo e quindi ovviamente ci sono vari traumi stradali che portano ovviamente a pazienti traumatizzati, soprattutto toracici.